Ciao ragazzi, mi riconoscete? Sono Pippi, si spezzoso, siiii! Io ti farò un bel rispetto... Ah già! Scusate, questo ce l'avresti me, già non mi fanno respirare! Ok, stavo dicendo, sono Pippi e sono qui per fare un bel rispetto, una piccola giata! Eh sì, perché è evidente queste bellissime donne, guardate, guardate, ce n'è una, ce n'è una, ce n'è una, sono bellissime! E adesso io, sapete cosa farò? Le loro andranno tutte nella sua camerezza! Allora, dove le mettiamo? Dove le mettiamo? Adesso seguitemi! Perché le nascondiamo? Allora, per prima cosa... Dunque, allora, ora le nascondiamo, le mettiamo, prendiamola prima, come la prendo, come la prendo? Ok, presa ragazzi, presa! Ok, la nascondiamo! Una in casa l'olla! Ecco l'altro! Una la mettiamo qui, una la mettiamo qui! Ok, ragazzi, è fatta! Era l'ultima! Mi dovrà trovare bell'undici! Scusate! Sì, allora, ho scritto un messaggio a casa e ora glielo lascio qui su un suo letto, sì, 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 le sono tattie! E lei cercherà delle loro, sapete cosa gli ho scritto? Leggete, leggete, sapete leggere? Io sono l'epita! Cara Giada, sto pipì! Gio, nascosto le remix! Ha, ha, ha! Ma tu, volete la puntoretta! Ma dopo, ragazzi, io vedo l'ora che Giada ritorni! Ciao a tutti e benvenuti amici di... Gioca con Giada! Giada, oggi siamo nella tua cameretta perché è successa una cosa pazzesca! Cos'hai trovato sul letto? Caspita, cosa dice? Leggiamola Cara Giada, son pipì! E ti ho nascosto le remix! Ha, 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 ha! Trovali nella tua cameretta! Ma senti, invece questo cos'è? Il travestito! Questo è il suo travestimento dell'altra volta! Ma perché è una sciarpa? Sei diventata pipì? Questa è proprio la mia sciarpa, in effetti, adesso che la vedo! Vuol dire che le nostre 11 LOL Surprise Remix Hire Flip sono tutte nella tua cameretta! Ma perché è 11 e non 12? Perché una l'abbiamo già aperta! Eccola qui! Eh sì, l'avevate già visto il video! Se non l'avete visto, guardate! Nella descrizione vi lasciamo il link! Ho fatto via, eh, gonna andata! Oh oh! Mi spiace! Ho trovato una scatolina! Brava, tirala fuori! Ne abbiamo già trovato una scatolina! Sono spondendoci! Quindi abbiamo trovato già una scatolina! La mettiamo qui sul letto! Allora, cerchiamo le altre! Forza, ne hai già trovato un'altra! Caspita, dai dai, sono 11! Dobbiamo trovarne 11 tutte in cameretta tua! Quindi forza! Poi, poi, poi! Dietro al panda l'abbiamo scovata! Nella casa Enchantimals! Dietro alla nostra cenoveffa! Un'altra pezzettina! Ne hai già scovata un'altra! Guardate! Una nella casa LOL! Era là sotto! Poi, poi, poi! Guardi i cassetti! Qui non c'è! No, direi di no! Guarda, è bella! Uuuuh, ma che belle magliette che hai! Giro, Brilla! Oh, che belli! Poi, poi, poi! Ta-ta! No, non mi ricordo! Poi dove non hai ancora guardato? Non l'ho vista, ora! Ne hai vista un'altra? Ah, nella mia cuccia del carino! Nella cuccia del tuo... Ah, io te lo devi arrivare, infatti! Il tuo cucciolino! Il nostro JJ! Tira fuori! Uuuuh, eccola qui! La piramide si sta formando! Nell'armadio! Eccola, questa parte! Brava, esatto! Nell'armadio! Cerchiamo! Vedo che non c'è più! Eh, no! No, vai! Ah, eccone una! Mettila in ordine là in alto, ok! Una, due, tre, ma... Sette, 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 otto, nove! Sono nove! Ne dobbiamo trovare undici, quindi ne mancano esattamente... Nove, dieci, undici! Due, undici mancano... Ne mancano due! Due! Da nove per arrivare a undici, sono due! Ah, la vomita e mi pone un bel testo! Un bel testo! Curbetta, hai dietro Anna! Ciao, ciao, un pari, ciao! Ciao, piccola Anna! Ok, appoggiamo lì! È l'ultima! È l'ultima, Anna, è l'ultima anta dell'armadio! Ed ecco qua la nostra piramide, Giada! Tu dove sei finita lì? Cosa stai frugando nell'armadio? Allora, Giada! Ne apriremo una! E fammi vedere la scatola! Dai, fai un bel giro di scatola! Illustrami che cosa c'è! Allora, a questa parte c'è scritto l'Orly Mixer Flip! Dietro cosa c'è? Quante sorprese si trovano? Giramela verso di me, grazie! Per notti! Quindici sorprese! Quindici! Lo sapevamo già, perché abbiamo già aperto lei, bellissima! Ok, faccio un po' d'ombra, scusate! Ok, Giada, sei pronta ad aprirla? Tiraci fuori tutto! Istruzioni! Poi, scatola blu! Svuotala, svuotala tutto! Fai uscire tutta la scatola intera! Ma non facci vedere la... Non farcela vedere! Nascondila! Non la vogliamo vedere subito! Allora! Aspetta! Quante bustine! Qui abbiamo tutte le nostre meravigliose bustine! Questo è il nostro adesivo! E se le trovi tutte si compone probabilmente tutta la canzone! Va bene! Noi quando li avremo tutti li attaccheremo, ok? Perfetto! Procediamo! Apriamo prima le bustine! Apriamo tutte le bustine! Intanto vi volevo far notare come l'altra volta! Questo qui, come vedete, è come una cassa! È come un giradischi! Infatti poi andrà una musichetta! Poi ve lo racconto dopo! Intanto Giada sta aprendo le bustine! Facci vedere! Appoggia tutto qui! No! Sono degli elastici stupendi! Fucsissimi! Quanti sono? Quattro? Mi sa proprio che so chi è! Altri elastici! Ma questa babbola è piena di elastici! Il piedistallo! Il piedistallo! E poi ci saranno... Ok, questo qui va a casa! E la collezione di elastici! Questo va attaccato qui! Per poi mettere la nostra Lollina in piedi! C'è il viola e il fucs! È partita una scarpa! Eccolo qui! Un po' sportivetta! No, mamma! È il colore verde a quel pettine! Colore preferitissimo! È un mix di colori questa Loll, eh! Per adesso! Sono i vestiti! Wow! Sono i vestiti? Ma che bella! È vestita un po' da genietta! Tutta trasparente! E questa cosa sarà sotto allora! È un bel tappello! Che bella visiera! L'ultimo! Oh! Capito! Ci sono i suoi... I suoi per il cantare! Cos'è che manca in effetti? Lo strumento musicale? No! Ah! Non ce l'ha lo strumento musicale quindi! Che stranezza! Boh! Chissà mai che cosa fa! Ma che bello! Coloratissimo! Quindi siamo arrivati alla Loll! Non abbiamo più niente da scoprire! No no no! Facci vedere la Loll! Apriamola! Oh sì! È proprio la tua preferita! Una delle tue preferite! Wow! In effetti è bellissima! Fammi vedere la checklist! È proprio lei! È nae nae! Cambia colore nell'acqua! Che adesso vi faremo vedere! E acqua sia! Dunque nae nae è una popular! Però ragazzi è bellissimi! Oh! È già colpo! Yeee! È già colpo! È buona mia testa! È bellissima! Eccola qua ragazzi! Bellissima! La vestiamo! Già dan! Sei pronta? Facciamo girare il disco? Sentiamo la musica! Pronto? Musica! Eccola! Ancora! Ancora, ancora una! Come ti sembra il suo pezzo? Bello! Bello! Ok! La vestiamo! Eccola ragazzi! È prontissima! Giada! Eh! Quindi tu hai veramente voglia di aprirle tutte? O forse è meglio fare una magia? Allora Giada! La facciamo questa magia? Sì! Forza! Uno, due, tre! Giada! Ma! Le abbiamo aperte tutte! Le abbiamo aperte tutte tranne una perché vogliamo fare un ultimo video con queste LOL Remix Hair Flip perché intanto vogliamo farvi vedere come cambiano i loro capelli se slacciamo tutti questi codini che vedete su di loro magari non proprio tutti tutti ma alcuni ecco perché i loro capelli possono nascondere delle sorprese delle cose particolari hanno nei capelli tu sei curiosa? e sta scelta e quindi non abbiamo aperto quella che per me è la più bella quindi non vi perdete il video di apertura di lei stupafly stupafly ma che nome è? Giada ma che nome hanno queste LOL ma intanto vi faccio un'inquadratura di tutte quante ragazzi usano una più bella nell'altra guardatele tutte adesso Giada ci dirà tra queste se in realtà la sua preferita è sempre la stessa o cambiano dimmi tutto Giada qual è la tua preferita? mi piace lei lei e lei ah loro tre praticamente si perché prima è vero sono belle bellissime queste qua mi piace beh ragazzi però anche le ricciolone sono bellissime no dai sono tutte veramente carine questa è una bellissima linea non sai quale mi piace di tu di tu? quale? la tua preferita? questa qua senti molto bellissima hanno dei capelli morbidissimi veramente devo fare i complimenti a chi ha creato queste LOL la giochi preziosi si la giochi preziosi ce li ha inviate quindi grazie mille a giochi preziosi ma non è finita qua Giada allora Pippi ci ha nascosto queste bamboline ma Pippi ti ha anche lasciato un messaggio e questa volta non è un messaggio scritto no non vuoi dire che si fa vedere lui eh? vogliamo vedere che cosa ci ha mandato? si ma forse ho capito forse ti vuole fare conoscere dai allora guardiamo il suo messaggio ma adesso te lo hai visto non ha Oberlo ostica hai trovato tutte le LOL che ti avevo nascosto e che gli ho? ma sono be' e bi judo si mi sembra un animale cosa dice? Ci potremo anche incontrare, conoscere e fare un bellissimo video insieme! Non facciamo un video con lui? Oddio, oggi! Io mi farei conoscere a te! Ma solo se poi eh, Giada! Ciao! Ciao Pippi! Ma Giada! Finalmente sappiamo chi è Pippi! Sì! Però io no! E presto farà un video con noi! Ma io lo voglio vedere adesso! Arriverà, arriverà! Ma noi abbiamo finito questo fantastico video! Vi salutiamo! Ok! E ci vediamo! Al prossimo video! Ciao! Mettete like! Iscrivetevi al canale! Un super bottone! Ciao! Ciao amici! Ciao! Ciao ra Lara! Ciao Reach montazzi... Fu a tutti! E li sii insi up? nuovo,ça para! E li sii insi up! Grazie.